Di solito ci si lamenta per i ritardi nel trasporto pubblico, treni o pullman che siano. Siamo abituati a raccogliere le denunce di chi viaggia, che spesso subisce disagi. Ecco perché la storia di un viaggiatore che si è arrabbiato per i 40 secondi di anticipo con cui è partito un autobus cittadino e le relative scuse arrivate da seta, suscita un po' di incredulità. Oggi sul nostro quotidiano, nella pagina di Libertà di Parola a cura del direttore Pietro Visconti, troverete tutti i dettagli della questione con tanto di lettera di scuse del gestore del trasporto. Ma ripercorriamo la vicenda. Ieri è comparsa una lettera dal titolo Questione di un minuto, l'autobus 2 parte prima e beffa il pendolare a firma di Alessandro Garilli, che ha fatto scattare una sorta di indagine interna a seta. L'azienda ha scoperto tramite il sistema di rilevamento satellitare dei mezzi che effettivamente mercoledì 2 gennaio 2019 il bus in servizio sulla linea 2 era partito dalla fermata di Piazzale Marconi in anticipo di quasi 40 secondi, che hanno quindi originato per il signor Garilli un'attesa di 21 minuti per il bus successivo. Seta ha espresso il proprio rammarico per l'accaduto e si è scusata per il disagio. Provederemo a richiamare il nostro personale affinché si attenga alle prescrizioni di servizio, si legge in una nota, ricordando agli utenti che è sempre buona norma presentarsi alla fermata qualche minuto prima rispetto all'orario previsto, per evitare affannose rincorse dei bus in transito e una più sicura salita.